Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento col Biancherosso TV Sport. Ormai ci siamo, è cominciato il lungo conto a rovescia per la partita più difficile dell'anno perché Latina è indubbiamente una partita che ha degli ingredienti forti ma anche un coefficiente di difficoltà enorme per i Bari che deve vincere per forza per andare in finale pre-off e quindi fare un ulteriore passo verso la Serie A. Non fosse questa squadra stata capace già di fare cose importanti magari ci avvicineremo con un pizzico di pessimismo a questa partita ma siccome questa squadra ci ha sempre stupiti in tutti i sensi dobbiamo crederci, noi dobbiamo crederci, io ci credo è un po' il motto del momento dobbiamo crederci ancora una volta ma questa è una squadra che sa comunicare, che sa esprimere anche grandi valori comunque vada, ha scritto una pagina importante non solo del calcio barista ma forse anche del calcio italiano e questo è un aspetto che vuole sottolineare la WISP rappresentata oggi dal presidente regionale Fabio Mariani Ben trovato Buonasera Cosa vi ha colpito e cosa intendete fare? Perché comunque è giusto che quello che ha fatto il Bari resti un esempio da seguire Guardi, noi siamo rimasti veramente molto 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 colpiti dal comportamento dei giocatori di questa squadra che nonostante le varie difficoltà che conoscono tutti è riuscita a mantenere una identità profondamente umana e a creare un contatto con la città di Bari e non credo solo con i cittadini baresi che secondo me con i tempi che corrono è una cosa veramente più unica che rara Questo diciamo che è il momento che ha ispirato il vostro intervento I giocatori che portano i cornetti ai tifosi in coda allo stadio Cornetti acqua ai tifosi perché è un gesto che ha una simbologia fortissima cioè dei ragazzi che giocano a pallone che sono però già al loro modo dei divi dei piccoli divi anche se non sono sulle trasmissioni nazionali più quotate nel senso più 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 eccetera si collegano con la città cioè è una roba che secondo me non può passare secondo noi non può passare inosservata e deve essere assolutamente valorizzata Come? Noi ci siamo fatti promotori di una richiesta con lettera aperta alle istituzioni in particolare all'assessorato allo sport della regione Puglia e al sindaco abbiamo fatto la richiesta prima che ci fosse il ballottaggio quindi al sindaco attuale di dare un segnale, un riconoscimento anche simbolico però un qualche cosa che faccia capire ai cittadini che questo affetto viene anche istituzionalmente riconosciuto cioè abbia un valore e sia un valore condiviso poi al di là del io mi auguro che ovviamente che il Bari ce la faccia non dimentichiamoci anche un po' di fortuna e dobbiamo anche essere tutti quanti scaramantici in tal senso però far capire la città che ha una bella squadra può andare fiera ed è una cosa bella è un esempio che deve restare perché questa squadra mi ha visto e l'ho detto tante volte sembra piovuta dal cielo cioè una squadra che in qualche modo riscatta Bari risarcisce Bari rispetto alle nefandezze del calcio scommesse perché paradossalmente avvengono due cose nella stessa città il giocatore che fa autogol apposta nei derby contro il Lecce e si vende le partite la società che fallisce la squadra che prende i punti di planizzazione è come dal niente quando ti sembra di aver toccato il fondo spunta questa squadra di giocatori che prendono stipendi da comuni mortali che sembrano destinate ad un campionato e improvvisamente tre mesi la magia è come se tutto fosse tornato al suo posto ora Bari può dire di aver ritrovato il calcio di aver ritrovato i valori espressi dal calcio e lo deve a questi ragazzi straordinari assolutamente sì io non posso non ricordare quello che Elio Di Suma che il presidente Wisp e Bari mi ripete spesso e gli sono grato anche di ripetermelo spesso il calcio e lo sport in generale tanto tempo fa aveva un valore diverso un significato diverso lui dice che questa squadra è riuscita a far riassaporare nell'aria di tutta la città un odore antico, positivo, bello penso che veramente sia una cosa unica non solo come Wisp sono anche sensibili a questi discorsi perché noi cerchiamo di creare occasioni di sport per tutti e non certamente soltanto per il giocatore professionista per tutti allora maggior ragione un messaggio di questo tipo come quello che sta portando questi ragazzi del Bari non può che far bene a una coscienza collettiva c'è un amico in linea, pronto? Sì, pronto Eccoci, ciao Buongiorno intanto condivido quello che ha detto l'amico di sensibilizzare le istituzioni perché un esempio nello sport in genere nell'onestà dello sport nella correttezza è una cosa che serve ai ragazzi di oggi mi volevo allacciare proprio a questo però per dire che avevo già dei sentori da due mesi a questa parte delle agevolazioni che ha ricevuto in Latina a partire dall'ultima partita fatta in casa in campionato con il Latina se andate con i vostri mezzi tecnici a guardare vi accorgerete quanti favori arbitrali ha avuto il Latina questo dimostrerà senza ombra di dubbio che noi siamo la vittima predestinata il Latina invece è quella destinata ad andare senza i propri meriti e con quelli invece degli aiuti arbitrali vabbè noi francamente non conosciamo la Latina story perché non sappiamo cosa è accaduto prima di questa gara con il Bari con il Bari indubbiamente io non so se io credo che sia stato un arbitraggio mediocre a provocare quello che ha provocato perché io sono convinto che gli arbitri in mala fede e qualcuno purtroppo la storia dimostra che c'è stato trovano sistemi più sottili per favorire una squadra piuttosto che l'altra questo per me è un arbitro scarso e presuntuoso perché non si è voluto neanche consultare col guardalini e non dimentichiamo la grave responsabilità dell'assistente di linea quello che sta dietro la porta che insomma ci sono delle foto schiaccianti un amico me ne ha inviata una non riesco a farvela vedere domani magari la mostriamo dove si vede chiaramente che l'assistente è lì vede tutto quello che succede si vede chiaramente la mano di Crimi che spinge Guarna fermo restando che a mio avviso i giocatori del Bari devono farsi un po' più furbi non bisogna permettere a nessuno della squadra avversaria di avvicinarsi al portiere il portiere è sacro non va toccato insomma quindi a quel punto Alberto e Zavettieri scelgano il butta fuori di turno perché un giocatore che si avvicina al portiere va preso col colletto e va scaraventato via non accade nulla anzi l'arbitro rimprovera quello che si è avvicinato al portiere quindi facciamoci più furbi non facciamoci prendere a cattivi pensieri domani speriamo di avere un arbitro di Serie A non so se è stato già designato l'arbitro Cristian ce l'abbiamo l'arbitro? Sì lo diremo fra poco c'è già l'arbitro per la partita di Latina andiamo in pausa pubblicitaria poi abbiamo tanta roba da farvi sentire poco fa Cristian Siciliani ha contattato Sabelli nel ritiro romano che precede la partita grazie a tutti